per la nostra rubrica il crimine della settimana abbiamo con noi marzio menga accompagnato dall'appuntato alfonso tripoli buonasera allora marzio menga che crimine ha compiuto no 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 io sono l'appuntato alfonso tripoli sono in borghese è lui il criminale è lei che ha compiuto il crimine scusi e che crimine ha commesso guardia stavo svaleggiando la casa del grande fratello e mi hanno beccato subito e come hanno fatto beccarla sa come con le telecamere io non lo sapevo che c'erano le telecamere grazie complimenti complimenti bravo marzio menga bravo